è fatto ragazzi Torsby torna in serie A diciamo che fa un tradimento ai suoi ex tifoli perché ragazzi va al Genoa vi ringrazio un bel like per aver guardato il canale e per aver guardato i 4 100 iscritti siamo ragazzi a 324 vi ringrazio molto per il supporto che mi state dando nell'ultimo periodo e condividete il video ovunque Morten Torsby che acquisto acquisto veramente intelligente per la formula perché comunque sono un giocatore molto molto importante per la squadra perché è un sistema di gioco che lui conosce comunque lui ci sa stare quel sistema di gioco per me ragazzi ne ha acquisto perfetto per il centrocampo del Genoa non poteva far meglio Torsby giocatore forte che a me ragazzi è sempre stra piaciuto alla Samp che comunque con la sua fitticità e i suoi centimetri andrà a completare un centrocampo di tutto rispetto perché ragazzi il Genoa da neopromossa in serie A avrà Strootman, Badel in mediana e Torsby Torsby e Strootman nei due mezzali con Badel in mediana un centrocampo assurdo per la neopromossa diciamo che fa un tradimento però alla Samp perché comunque è rimasto per tre anni era entrato diciamo nel cuore dei tifosi perché comunque lui da tutto in campo dall'inizio al novantesimo quindi veramente c'è proprio poco da dire i tifosi però ancora non hanno digerito diciamo la sua decisione Algena comunque ha dato tutte le carte in regola per fare una grandissima stagione e contribuire ragazzi all'obiettivo che è la salvezza nel prossimo campionato parlando poi la sua carriera ragazzi è un giocatore che è cresciuto calcisticamente comunque fin da piccolissimo in piccoli club della Norvegia inizialmente nell'Heming poi nell'Inn e poi ragazzi nello Stabek dove esordisce ragazzi a 17 anni nel 2013 dove comunque disputa una rischietta stagione che ragazzi gli fa mettere gli occhi su di sé all'Hermen un club comunque più importante in Olanda dove comunque in 5 anni diciamo è esploso in questo club il club in cui l'ha fatto esplodere e si è imposto come uno dei migliori centrocampisti ragazzi del campionato olandese perché comunque il campionato olandese alla fine non è che sia così scarso lui è stato molto molto bravo è stato uno dei migliori centrocampi in questi anni e stagione ragazzi in cui comunque ha fatto anche diversi gol soprattutto nelle ultime due e poi ragazzi nel 2019 però decide di non rinnovare il suo contatto di scadenza e decide ragazzi di approdare la Samp che vuole credere lui gli dà la possibilità parametro zero col paccio clamoroso mi ricordo quando l'ha preso si parlava di un grande giocatore alcuni sconosciuti per alcuni ragazzi che lo conoscevano magari io ho visto qualche c'è qualche giocata che fa quello che fa tanta roba secondo me infatti ragazzi ci ha dimostrato un grandissimo giocatore e ragazzi nel Samp comunque in 3 anni fa molto molto bene diventa un perno fisso della squadra e a suon di ottime prestazioni diciamo contribuisce in questi anni alla salvezza del club e comunque con il raniere addirittura ad arrivare al decimo posto nella prima stagione o nella prima o nella seconda non mi ricordo mi sembra e tuttavia però lo scorso anno la Samp dovette metterlo sul mercato comunque diciamo che il giocatore era controvoglia a metterlo sul mercato perché stava molto bene lì a Genova alla sponda Samp e quindi ragazzi non voleva scendere il club però il club aveva bisogno di monetizzare monetizzare poi 3 milioni e mezzo circa dall'accessione di un giocatore che ragazzi era il tuo perno nel centro campo tra i top 3 giocatori più importanti della tua rosa lo aveva scendere per 3 milioni e mezzo cioè veramente ragazzi va l'Unione Berlino che l'acquista per quei 3 milioni e mezzo e comunque fa una rischietta stagione facendo un gol in 27 partite circa in campionato si è giocato quasi tutte tra titolare e subentrato però vorrebbe più spazio comunque se lo merita ha contribuito però anche lui ragazzi al miracolo Champions del 1 di Berlino che due o tre anni fa era in seconda divisione della Bundesliga come pensate voi è arrivato quattro lo scorso anno però ragazzi tornerà in Italia perché vorrei trovare più spazio e al genere ragazzi troverà lo spazio le giocherà tutte secondo me perché tanto i problemi fisici lui non li ha di solito spero di no per lui poi e farà molto bene secondo me ai cugini in rosso-blu e ragazzi l'operazione è in presito secco con diritto di riscatto che diventa obbligo a 4 milioni di euro se il Giro dovesse salvarsi quindi sarà obbligo a 4 milioni se il Giro dovesse salvarsi parlando poi delle sue caratteristiche non c'è capito ragazzi che fa della fisicità e della grinta e i suoi punti di forza se poco da dire poco da fare è molto luvido deciso nei contrasti li vince praticamente tutti sia aerei che fisici e quando c'è da mettere la gamba lui la mette poi il contrasto si fa puliti prende anche tante ammunizioni però la maggior parte ne fa la 10 a partita anche se prende se ha tante ammunizioni all'anno comunque una marea ne fa anche puliti di contrasti è una mezzala diciamo di ruolo il suo ruolo è una mezzala un centrocampo a 5 anche perfetto anche il centrocampo a 3 della Sam 4-3-2 era perfetto mi piace giocare a 3 comunque è un giocatore però molto d'utile perché per cui anche diversi luoghi come l'esterno ho fatto vedere mi ricordo la Sampdoria il terzino il trequartista il mediano tutto e inoltre comunque fa dei suoi centimetri della sua voglia di fare i suoi altri punti di forza perché ragazzi duelli aerei li vince tutte lui al centrocampo non c'è nulla da dire nulla da fare i duelli aerei sono tutti le palle alte tutte le sue e poi ragazzi corsa perché ragazzi lui fa una marea di chilometri a partita mi ricordo uno dei stancanovisti che faceva più chilometri in Serie A e anche la sua voglia che sa di fare perché sa una voglia veramente impressionante che ti fa venire voglia di vederlo giocare a pallone però un po' la sua collezione tattica è stato super titolare come ho detto prima con Strotman e Baden nel centrocampo a 5 e fin da subito secondo me ci sono veramente pochi dubbi lui sarà titolare sicuro gli altri due non lo so lui è sicuro ma più ci sarà questo centrocampo e comunque porterà esperienza e tanta tanta efficacità al reparto voto ragazzi 7 e mezzo perché quelle cifre presto con obbligo di riscata a 4 milioni in caso di salvezza diritto se non si salvano quindi ragazzi molto molto bene questo ragazzi ne aiuto se non tengono me di cosa ne pensate cosa avete voi di Torfi secondo me farà benissimo e un bel like quando vedete il video comunque bella